Cambia il clima sul lago. Questo è quanto emerso dai dati forniti dalla Fondazione MAC. L'istituto di ricerca che ha sede a San Michele all'Adige rileva costantemente la temperatura del lago di Garda, assieme ad altri parametri fisici, e le informazioni vengono poi inserite nel network Global Lake Temperatures, creato nel 2012 dall'Università di Lincoln negli Stati Uniti, assieme ai dati di altri 291 bacini di tutto il mondo. L'archivio di informazioni globale che è andato formandosi costituisce un unicum per lo studio della dinamica evolutiva degli specchi lacustri e la banca dati è a disposizione del pubblico e della comunità scientifica. La ricerca sugli effetti dei cambiamenti climatici sul Garda è stata recentemente ampliata, confrontando i risultati raccolti sul campo e attraverso satelliti con i dati ottenuti in grandi specchi lacustri d'Italia. Il lavoro metterà in rilievo importanti indicazioni sulle tendenze evolutive dei laghi della penisola italiana e offrirà qualche risposta a quanti si interrogano da tempo sulle mutazioni climatiche in atto sul lago. La temperatura del più grande lago italiano ha infatti effetti importanti sui territori che vi si affacciano. Ogni cambiamento, anche se modesto, porta conseguenze in parte imprevedibili su venti, nebbie, evaporazione e fauna ittica.